Mi servizia a noi stavamo a cominciare la quale è il presupposto del 2019 che nel momento di fare il lavoro di ejecutare e la cifra del primo quartale è già ottenibile è arrivato al sito di gobierno.au e la cifra del Parlamento di Aruba e la cifra del primo quartale è la cifra del primo quartale e la cifra del primo quartale è la cifra del primo quartale che non si sta guardando il deficit sta guardando un surplus e anche che non si sta stabilizzando la qual è la cifra del debito di gobierno. E qui c'è buona notizia per quanto tempo fa, non si sta guardando il deficit e non si sta guardando il risultato e non si sta guardando il risultato di parte del gobierno ma non si sta guardando il risultato ma il popolo in generale e non si sta guardando il risultato che non si sta guardando la sini Grazie a tutti. Grazie a tutti.